Autorimessa lavaggio, Viale Magna Grecia 189B Taranto, accanto alla Clinica Santa Rita. Servizio H24, qualità, sicurezza e convenienza. Posti in abbonamento mensile a partire da 60 euro per le auto e 40 per le moto, con dotazione di telecomando per poter entrare ed uscire in autonomia. Accurato servizio di lavaggio, 10 euro per tutte le auto, 5 euro per le moto. Ti aspettiamo, avremo cura del tuo mezzo!